Siamo appena tornati, diciamo che sono appena tornati, perché per me purtroppo la gara è finita dopo un'ora e mezza per un incidente stradale, non voluto, e bisogna dire che questa è stata sicuramente un'esperienza importante per i sopravvissuti a questi due giorni continui ininterrotti di acqua, grandine, vento, freddo, sembrava di essere all'elefant treffe, una temperatura direi da pieno inverno, i ritirati purtroppo sono parecchi, li capisco, d'altronde il tempo purtroppo è una cosa che nessuno di noi riesce a comandare e a organizzare, ciò nonostante la manifestazione nel suo complesso possiamo dire che è riuscita, è riuscita perché chiaramente coloro che arriveranno, i primi sono già arrivati, hanno dimostrato ancora una volta che in Vespa naturalmente il tempo non conta niente, si può ugualmente andare con prudenza, se vogliamo, più piano, però consente anche di spostarci, certo che se c'era il sole era tutto di guadagnato, purtroppo questo non c'era e abbiamo dovuto accettare quello che il buon Dio ci ha mandato. Il percorso praticamente con partenza da Mantua si è fatta tutta la gardesana a parte veronese fino a Rovereto, da Rovereto poi il programma prevedeva l'arrivo a Passorolle ma non si è potuti andare perché nevicava abbondantemente, si è scesi quindi prima per la Val Sugana, la Val Sugana ci ha portato sino a Treviso, a Treviso un diluvio universale, poi da Treviso durante le ore serali si è arrivati a Ravenna con sosta di parecchie ore, si è ripartiti al mattino da Ravenna per arrivare a Pontedera passando per il passo del Muraglione sotto Firenze e poi arrivo lì a Pontedera per le prove cronometrate, Pontedera-Sarzana, Sarzana passo della Cisa e rientro a Mantua con arrivo qui in Piazza Sordello. I partecipanti iscritti regolarmente 306, qualche defezione c'è stata sull'ordine dei 3-4 non partenti, il resto sono partiti tutti, l'arrivo è previsto sui 180-190, sui 306, gli altri si sono fermati prima.